Ancora nessuna notizia di Cosimo Scopelliti, tre giorni passati tra paure, speranze e ricerche, ma il 32enne, originario di Larderia, sembra essere letteralmente scomparso nel nulla. Di lui non si sa più niente, da venerdì scorso, quando allontanandosi da casa per sbrigare delle commissioni, non ha fatto più rientro. Da quel momento il vuoto, il suo telefono è rimasto accesso fino a sera, poi è stato spento e fino a oggi risulta irraggiungibile. L'ultima scella agganciata riconduce al centro cittadino. Alcuni testimoni hanno dichiarato di averlo visto l'ultima volta venerdì sera, tra conteste e tre mestieri. Nessuna traccia, nessun biglietto, nessun avvertimento che avesse potuto far pensare a moglie e familiari in giusto simile. Era un ragazzo sereno, dicono, si era sposato circa dieci giorni fa, si era trasferito al nord della città e lavorava in una ditta di giardinaggio. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia Messina Sud, che hanno già avviato le ricerche, servendosi anche di elicotteri per sedacciare ogni punto del territorio. Al momento non si esclude nessuna ipotesi. Anche amici e parentesi sono messi alla ricerca, stanno provvedendo a stampare locandine e foto per diramare il più possibile la notizia. Ma più passano i giorni e più le paure aumentano. I cittadini tornano indietro nel tempo e pensano a Provvidenza Grassi, la 28enne apparentemente svanita nel luglio del 2013, ma che il corpo senza vita fu ritrovato invece molti mesi dopo nei pressi di una centralina dell'Enel sotto la tangenziale Messina Catania. Cosimo Scopelliti, alto circa 1,80 m, ed è sparito con la sua Renault Clio nera, targata di F416MN. Chiunque avesse notizie avverte immediatamente le forze dell'ordine o contatti il numero di telefono 347-8663. Questo è l'appello disperato della famiglia.